Signore Dio mio, ascolta la mia preghiera. La Tua misericordia esaudisca il mio desiderio che non arde per me solo, ma vuole servire anche alla carità fraterna. Tu vedi nel mio cuore che è così. Lascia che ti offra in sacrificio il servizio del mio pensiero e della mia parola, e dammi ciò che ti devo offrire, perché io sono povero. Tu invece sei ricco per tutti coloro che ti invocano. Tu sei senza affanni, tu che ti affanni per noi. Taglia via dalle mie labbra ogni presunzione e ogni menzogna. Siano le Tue scritture le mie caste delizie. Che io non mi inganni su di esse, né inganni gli altri con esse. Signore, guarda e abbi pietà. Signore Dio mio, luce dei ciechi e forza dei deboli. Rivolgi la Tua attenzione sulla mia anima e ascolta chi grida dall'abisso. Se le Tue orecchie non fossero anche nell'abisso, a chi potremmo rivolgerci? A chi potremmo gridare? Tuo è il giorno e tu alla notte. Al tuo cenno passano gli istanti. Dammene un poco per le mie meditazioni i suoi segreti della Tua legge. Non chiudere la porta a chi bussa. Non senza motivo, certo. Hai fatto scrivere tante pagine piene di misteri e quelle pagine hanno le loro foreste, i loro cervi, che vi si rifugiano e riposano, vi pascolano, vi si sdraiano a ruminare. Oh Signore, compi la Tua opera in me, rivelandomele. La Tua voce è la mia gioia, la Tua voce è superiore a qualsiasi godimento. Dammi ciò che amo, perché io amo e Tu mi hai concesso di amare. Non abbandonare i Tuoi doni, non trascurare la Tua erba disseccata. Proclamerò a Tua lode tutto quanto scoprirò nei Tuoi libri. Fa che io possa udire la voce della Tua lode e possa dissetarmi di Te, contemplando le meraviglie della Tua legge fin dall'inizio, quando creasti il cielo e la terra e fino al regno eterno, con Te nella Tua santa città. Signore, abbi pietà di me ed esaudisci il mio desiderio. Non credo sia desiderio di cose terrene. Io non desidero oro, argento, pietre preziose, o vesti sfarzose, onori e potere, o piaceri carnali, e nemmeno quei beni necessari al corpo durante il nostro pellegrinaggio in questa vita. Tutte cose che non ci mancano mai, se cerchiamo il Tuo regno e la Tua giustizia. Vedi dunque, Dio, cosa desidera il mio cuore. I peccatori mi hanno descritto le loro volutà, diformi però dalla Tua legge, Signore, e a questa si ispira il mio desiderio. Vedi, Padre, guarda, vedi e approva, e piaccia agli occhi della Tua misericordia che io incontri il Tuo favore, affinché i recessi segreti delle Tue parole si aprano al mio bussare. Ti scongiuro per il Signore nostro, Gesù Cristo, Figlio tuo, eroe che sta alla Tua destra, Figlio dell'uomo, che hai stabilito come mediatore fra Te e noi, per mezzo del quale ci cercasti mentre non Ti cercavamo, e ci cercasti affinché Ti cercassimo, il Tuo verbo con cui creasti l'universo e in esso anche me, il Tuo unigenito per mezzo del quale hai innalzato alla condizione di Tuoi figli le moltitudini dei fedeli e fra questi anche me. Per Lui ti scongiuro, Lui che siede alla Tua destra e intercede per noi presso di Te, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, io cerco proprio questi tesori nei Tuoi libri. Di questo ha scritto Mosè come ce l'ho a testa egli stesso, che è la verità.